eccoci pronti per vivere la terza edizione del meeting francescano del mediterraneo nella splendida cornice di cefalù dal 10 al 12 maggio un evento voluto dalla famiglia francescana per ritrovarsi in piazza confrontarsi a dibattere con gli uomini e le donne di buona volontà sul desiderio di costruire una società più giusta più solidale più fraterna contro la cultura dello scarto per l'uguaglianza per la fraternità per parlare di un mediterraneo che sia più accogliente più solidale per un'europa che ritorna ad essere nell'idea dei suoi padri fondatori saranno tre giorni di dibattito di riflessione di forum insieme a uomini del mondo sociale a istituzioni a persone impegnate nel mondo accademico insieme ci ritroviamo per riflettere per contribuire o a questa visione saranno anche giorni di festa di annuncio aperte ai giovani e più piccoli momento cruciale sarà l'incontro con fra francesco pattoni custodio di terra santa con cui rifletteremo su quanto succede nel mediterraneo e con cui pregheremo insieme a papa francesco nei nonni di preghiera per la pace una pace che sia duratura e che appartenga a ciascuno di noi proprio perché non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone e questo deve partire da noi quindi un monito importante e prezioso ritrovarci connessi nel desiderio di cambiare ciascuno di noi e nel desiderio di fare la nostra parte vi aspettiamo a cefalù per questi tre giorni di festa che vivremo insieme insieme insieme